Quest'anno a Climaus Bolzano presentiamo un prodotto molto interessante da un punto di vista della prestazione termica ed è il Poroterm Bioplan 30T009. È un prodotto che si distingue dalla concorrenza in particolar modo perché in pochi centimetri, parliamo solo di 30 centimetri, riusciamo senza il riempimento dei fori a garantire ottime prestazioni termiche volendo anche di una parete monostrato senza bisogno quindi di aggiungere materiale isolante. Uno dei plus però di questo prodotto è che rispetto ai lateristi tradizionali da 30 centimetri che propongono anche i nostri concorrenti riesce ad ottenere prestazioni molto più elevate a parità di cappotto il che significa che mediamente se dobbiamo aggiungere 10 centimetri nei sistemi tradizionali con questo blocco per assurdo basterebbero 2 centimetri di isolante esterno per ottenere le stesse prestazioni termiche. Gli altri vantaggi sono un'elevata inerzia termica e sempre comunque la sicurezza sismica delle nostre soluzioni.